modalità turbo e illuminiamo tutta la via fin lì dove c'è una casa ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video ogni tanto mi devo un attimo staccare diciamo dal lavoro o comunque dai video che faccio per lavoro che quindi parlano di power station fotovoltaici tutto quanto per dedicarmi a qualcosa di un po più divertente qualche prodotto nuovo qualcosa che magari non ho mai avuto sotto mano o che soprattutto mi consigliate voi di provare come è successo per questo video perché in qualche diretta mannaggia voi mi avete detto è dovresti provare le torce dell'olite sono fantastiche qua e là così allora mi sono fatto prendere la mano ne ho comprate non una non due ma tre comprate perché non è che me le mandano e quindi mi sono speso 200 euro per comprare tre di queste torce chiamiamole torce una un po più grossa due un po più piccole per capire un attimo come sono fatte se veramente sono così potenti sapevo che avevano delle funzioni particolari non semplicemente on off e allora ne ho prese tre partiamo dalla più cicciona che si chiama olite warrior 3s 120 euro circa la baton 4 circa 60 euro e la per un 2 di questa mi sembra che già uscito la 3 non sono riuscito a trovarla questa roba l'ho comprata su amazon l'ho pagata un po di più sul sito ufficiale costa un po meno però le ho prese su amazon per comodità per pagamento eccetera e sono oggetti che costano parecchio perché una robetta del genere con la fascia da testa che costa 60 euro non è poco stessa cosa per questa ma questa vi anticipo già che sarà la mia preferita per poi passare a spendere 120 euro per una torcia del genere che ha sì delle funzioni è robustissima e fa un sacco di luce va bene però capite bene che è una cifra importante se fate outdoor vita all'aperto lavorate di notte nei campi che cavolo ne so dovunque vi può servire avere un oggetto del genere allora conviene andare su un prodotto di qualità per tutta una serie di motivi calcolate che non è neanche la più grossa ce n'è di molto più grosse che costano molto di più però insomma ve le faccio conoscere se non le avete mai viste e capiamo se sono fatte bene eccetera poi chiaramente le proviamo prima di andare avanti col video però iscrivetevi al canale che non costa nulla così lo facciamo crescere andiamo avanti col video le spacchettiamo poi le carichiamo le proviamo prendiamo un po confidenza eccole qua o light abbiamo la per un 2 piccolina la button 4 o beton 4 ma secondo me è button e la warrior 3s allora belli i sigilli fatti in questo modo tipo iphone quindi apriamo la più piccola slide open tutto molto molto curato e ci mancherebbe oserei dire con quello che costano allora queste sono torce molto molto particolari lo vedremo hanno anche un sacco di funzioni programmazioni eccetera ci arriveremo questa sembra molto molto utile molto molto versatile un po di carta l'abbiamo fatta fuori io voglio subito vedere com'è che sensazione da averla in mano perché non le conosco non le ho mai viste e voglio capire perché costano così tanto oltre alla luce allora oggetto che già in mano si percepisce molto molto solido ottimi materiali belle le serigrafie bello il grip le lavorazioni qui sull'alluminio insomma tutto molto curato queste ghiere particolari anodizzate in un alluminio diverso pulsante molto molto robusto e qui abbiamo l'attacco di ricarica perché questa lampada avrà il suo cavetto usb standard piatto molto carino ben curato con l'attacco magnetico che si chiama o light mcc 1 a come funziona usb magnetico la carichiamo abbiamo la fascia da testa perché questa nasce anche per essere una luce frontale questa parte ospiterà la cinghia elastica in questo modo bel materiale pluriregolabile tutte le indicazioni del caso adesso forse l'ho messa al contrario forse no chi lo sa verrà poi montata la lampada vedete hanno fatto anche la sede per la clip verrà montata la lampada in questo modo e all'occorrenza sarà anche una torcia frontale ma non solo liberiamo il cavo di ricarica la mettiamo subito in carica con un normalissimo carica batteria qui abbiamo il nostro attacco magnetico la attacchiamo si illumina di rosso vedete e segnala che sta caricando la metterei un attimo da parte mentre si carica e leggeremo poi il manuale intanto cerchiamo di capire cosa ci danno come manualistica dei manuali che sembrano molto molto dettagliati in tutte le lingue compreso l'italiano sono poi figure niente di particolare ci fa vedere esattamente quello che abbiamo appena visto come si apre come si accende ci sono varie modalità poi per comandarla qui abbiamo un documento sulle sicurezze eccetera quindi di fatto avremo un solo vero manuale poi abbiamo anche questa sempre sigillata che è la button 4 presa in questo colore verde perché poi tutte le o light hanno diverse colorazioni tra cui scegliere un confezionamento leggermente diverso abbiamo sempre manuale sicurezza qui abbiamo una bellissima dichiarazione d'amore dove dice thank you per essere entrati a far parte della famiglia o light con ringraziamento per il supporto eccetera eccetera norme di sicurezza qui abbiamo già una guida rapida che dice prima di usarla di togliere il film isolante della batteria e adesso ci arriviamo allora qui abbiamo una bellissima sacchetta marroncino scamusciato con un aggancio qui e la scritta ricamata vedete o light carina stesso identico caricatore di prima manuale d'uso la nostra lampada che non è molto diversa da questa è solo leggermente diversa come forma e come caratteristiche come accensione vedete abbiamo un pulsante qua un pulsante qua cambia leggermente non abbiamo la luce trasversale ma perpendicolare al corpo dobbiamo svitarla ok e dobbiamo togliere questo film certo perché arriva con la batteria carica isolata allora non è molto comodo però intanto diamo un'occhiata vedete tutte queste parti in ergal la batteria in questo caso è marchiata o light ma è una 16 340 da 3.6 volte 650 miliampere queste si cambiano non si butta la lampada tutto molto molto preciso piccole semplici ma fantastiche tutta la parte dorata qui della contatteria non è comodo avere sta clip in mezzo alle scatole quando bisogna chiuderla vedete che c'è anche l'oring di chiusura questa parte molto molto raggede si è anche già accesa abbiamo sistemato la batteria controlliamo questa se c'era da fare la stessa procedura esatto quindi stavamo caricando un bel fico secco colpa mia che non ci ho pensato e non ho letto le istruzioni torniamo alla button 4 abbiamo sempre tutte le norme abbiamo il manuale che adesso analizzeremo e abbiamo detto che abbiamo lo stesso connettore di ricarica quando lei sarà carica darò una bella carica anche a questa e poi abbiamo il pezzo forte almeno di questo video che è la warrior 3s questa dovrebbe veramente illuminare al giorno confezione ancora diversa questa arriva col cielo fan da tagliare e nasconde una confezione diversa con chiusura fatta in questo tipo stessa frase stessa dichiarazione d'amore di prima molto molto curate anche tutte queste parti che sono subito visibili quindi è impossibile non vederle mentre nella piccolina lì non c'era in queste due con questa copertura gialla che richiama l'attenzione non possiamo che accorgerci di queste precauzioni anche qui ci dicono di liberare la batteria abbiamo una confezione nettamente superiore già solo per la dotazione di questa fondina col passante da cintura la chiusura il gancio insomma tutto molto molto curato e anche per quanto riguarda il connettore di ricarica che sempre quello cambia però perché questo è un mcc 1 a questo è un mcc 1 a 1.5 ampere 2 ampere probabilmente una corrente superiore e anche qui abbiamo poi il manuale utente apriamo la sua fondina che tra l'altro anche il tasto è protetto vedete la parte in plastica da questa cinghietta tutto marchiato tutto ben fatto qualità altissima e questo è già un oggetto diciamo ancora più performante e più grossa e più pesante e più cicciona l'attacco magnetico sarà sempre qua dietro sempre tutto ergal e parti anodizzate di un altro colore tasto qua gommato qui c'è il led con la lente pazzesco danno una sensazione in mano incredibile apriamo un dettaglio che prima non c'era dove tutto il filetto viene comunque ingrassato e lubrificato togliamo anche questa di protezione che però chiaramente più lunga perché abbiamo una batteria da 5 mila miliamper ora una 21 700 sempre 3.6 volt chiudiamo metteremo in carica anche lei ok le abbiamo analizzate abbiamo capito che sono fatte bene sono belle robuste materiali lavorazioni tutto di qualità anche solo il semplice gancio e bello robusto da una bella caricata tutto quanto e poi iniziamo a capire come funziona noi facciamo anche qualche test per vedere se fanno luce ok torcia carica vedete che verde anche qui abbiamo torcia carica torcia carica iniziamo a giocarci un po abbiamo le torce cariche iniziamo ad analizzare la piccola la per un 2 per quello che sono le funzionalità e ogni manuale che accompagna le torce o light tramite semplici figure disegni schematici delle funzioni vi permette di capire cosa si può fare con queste torce perché il pulsante che le comanda o i pulsanti non hanno solo la funzione di accendere o spegnere allora in condizioni normali voi potete accendere la torcia quando è accesa tenendo premuto vedete che cambiano i tre livelli 1 2 3 se la portate al livello massimo poi la spegnete tiene la memoria quando la accendete torna esattamente a quel punto possiamo ad esempio attivare il blocco quindi tenendo premuto emette questa piccola luce vedete che se provate ad accenderla vi fa un piccolo lampeggio ricordandovi che è bloccata quindi per evitare accensioni involontarie che la farebbero scaricare scaldare eccetera per sbloccarla bisogna di nuovo tenere premuto finché fa lampeggio si accende poi la spegnete oppure l'accendete tenendo premuto facciamo di nuovo i tre livelli adesso vedete che siamo al terzo livello c'è poi la modalità turbo quindi a lampada accesa schiacciando due volte veloce vedete che fa modalità turbo con molta più luce quando la spegnete alla riaccensione torna però alla modalità 3 e non turbo a luce spenta premendo due volte velocemente possiamo tenere la luce rossa tenendo premuto quando è accesa la luce rossa possiamo metterla in modalità lampeggio di emergenza quindi fa la classica segnalazione ciclica di un'emergenza la luce rossa fissa perché può servire perché usando la fascia da testa possiamo sì usarla come luce frontale ma mettendola da dietro possiamo anche usarla magari come luce rossa per le macchine che ci seguono e queste sono sostanzialmente le possibilità di utilizzo con la piccola per un 2 cosa possiamo ancora vedere qui sopra abbiamo un led dove se verde siamo sopra al 60 per cento se arancione siamo dal 10 al 60 per cento se rosso siamo dal 5 al 10 se lampeggia rosso e proprio scarica questo si attiva ogni volta che la accendete e poi va via c'è poi ancora una modalità che si chiama chiaro di luna quindi a lampada spenta teniamo premuto e si accende questa piccola luce che possiamo chiamare notturna o chiaro di luna come la chiamano loro cosa serve serve per evitare e adesso ve lo spiego se noi ce l'abbiamo accesa a livello 3 la spegniamo quando la accendiamo si riaccende a livello 3 magari in una tenda un luogo particolarmente buio una stanza con più persone accenderla subito a livello 3 per errore può dare fastidio allora a lampada spenta se teniamo premuto si accende in modalità chiaro di luna quindi se dovete fare luce su un qualcosa di vicino senza disturbare c'è ancora questa modalità c'è poi ancora questa modalità timer facendo un doppio clic mantenendo premuto il secondo con un lampeggio sta accesa tre minuti con due lampeggi sta accesa nove minuti questa può essere anche una funzionalità interessante quindi il manuale si guarda una volta si prende confidenza col prodotto si imparano questi semplici comandi e la per un due l'abbiamo studiata poi parliamo ad esempio della baton 4 la baton 4 è leggermente diversa nei colori nella forma però non così tanto diversa cosa cambia cambia che soprattutto è una luce frontale e cambia anche qualche funzione quindi la accendiamo e la spegniamo da accesa se teniamo premuto fa i tre livelli da accesa se premiamo due volte fa la modalità turbo da spenta se teniamo premuto fa di nuovo la modalità luna chiaro di luna o comunque luce notturna che abbiamo visto prima a lampada accesa se premiamo invece tre volte vedete che fa la modalità strobo che lì non c'era quando la spegniamo la riaccendiamo torna all'impostazione di luce normale che abbiamo effettuato anche qui abbiamo il timer impostabile a tre o nove minuti questa lampada cosa di diverso ha poi degli indicatori adesso spengo la luce abbiamo tre led di quattro led di qua i led a sinistra indicano la modalità di illuminazione quindi se la metto al massimo si accendono i tre led se la metto al minimo uno oppure medio eccetera qui a destra invece abbiamo la segnalazione della batteria con i tre led verdi siamo oltre il 60 per cento oppure dal 10 al 60 oppure sotto 10 lampeggiante addirittura sotto il 5 quindi i comandi abbiamo visto che ad esempio tra questi due modelli sono più o meno uguali poi abbiamo la grande siamo più o meno come la seconda che abbiamo visto dove abbiamo qui dei led che però questa volta sono sulla ghiera quindi abbiamo il livello batteria e modalità di illuminazione che vedete è su 1 2 3 livelli oppure doppio il turbo si accende il quarto led abbiamo anche qua la possibilità di fare il blocco quindi non si accende più la sblocchiamo e abbiamo poi le solite modalità abbiamo poi qui ad esempio la possibilità di programmare la funzione di questo tasto perché abbiamo anche il tasto posteriore abbiamo la possibilità di scegliere se accendendolo rimane acceso oppure se teniamo premuto diventa un pulsante quando lo lascio si spegne poi a due livelli quindi in base alla pressione cambia la luce questo è molto più diretto vedete che anche con i led passa da due a quattro mentre invece accendendolo da questa parte tiene la memoria del livello che abbiamo impostato prima accendendola da questo comando a lampada accesa anche qui con tre tasti quindi abbiamo la possibilità di fare lo strobo quello che vi voglio ancora far vedere è che quando il sensore percepisce un ostacolo davanti vedete che abbassa la luminosità per evitare di avere l'abbagliamento questa funzione non ce l'ha la piccolina non ce l'ha nemmeno la baton 4 più luce abbiamo più batteria abbiamo visto che qua utilizziamo un bel bestione praticamente senza batteria e come non averla in mano però come abbiamo già visto prima questo ci dà la possibilità comunque di cambiare solo la batteria e non cambiare tutta la lampada molto molto interessante adesso quello che bisogna fare è capire che luce fanno va bene adesso le proviamo al buio per vedere come si comportano in un ambiente buio ma chiuso adesso a parte la luce che vedete in fondo dalla vetrina qui siamo in negozio da me abbiamo queste tre luci dove la piccolina fa 1100 lumen l'altra 1300 mentre la grossa dovrebbe farne 2003 accendiamo la piccolina livello primo quindi facciamo luce comunque già che riusciamo a vedere se è completamente buio dove stiamo andando livello 2 riusciamo a fare una luce più forte livello 3 chiaramente vedete che iniziamo a illuminare abbastanza in modo importante proviamo il turbo è già questa piccolina cioè pensate averla in fronte guardate che cavolo di luce che riesce a fare nel locale oppure siamo al buio accendiamo la modalità chiaro di luna o luce notturna vedete che fa proprio un puntino però per lavorare vicino va più che bene prendiamo la button e siamo a 200 lumine in più quindi 1300 la accendiamo livello 1 fa anche qui un po di luce chiaramente la differenza è poco sensibile ma adesso le mettiamo anche a fianco livello 2 quello che posso dire che fa comunque una luce più ampia ha un angolo un'apertura molto più ampia livello 3 comincia a diventare importante ok vedete locale buio luce accesa proviamo il turbo notevole cioè riusciamo a illuminare abbastanza senza provare al buio non ti rendi conto che effettivamente fanno un sacco di luce proviamo anche qui la modalità chiaro di luna e ne fa sembra che ne fa un po meno dell'altra adesso impostiamo in modalità 3 questa e in modalità 3 anche la piccolina adesso ce le ho tutte e due in modalità 3 puntate più o meno nello stesso modo allora adesso abbiamo acceso la button a livello 3 la spegniamo accendiamo la perun a livello 3 effettivamente un pochettino più di luce la fa spero che si riesca anche a capire nell'inquadratura poi prendiamo la grande direttamente livello 1 ecco vedete che fa una luce che va più in profondità ma sembra già molto più stretta livello 2 vedete che si vede proprio il cerchio di luce ma illumina a distanza livello 3 abbiamo sì il cerchio di luce però stiamo effettivamente illuminando a giorno ecco è una lampada diciamo molto più direzionale modalità turbo stiamo facendo praticamente giorno nel locale vi faccio vedere anche in profondità che continua a tenere il cerchio di luce e invece adesso andiamo a provarle all'aperto quindi per vedere anche in lontananza fin dove arrivano perché in tutte queste pubblicità vediamo che fanno una luce a chilometri per capire un attimo in cosa riescono a illuminare almeno queste tre allora siamo in una strada di un bosco di notte completamente buia qui siamo in modalità 2 modalità 3 modalità 1 comunque almeno vedete dove camminate le pozzanghere modalità 2 iniziate già a fare una luce importante cioè la stradina qua in campagna la vedo tutta modalità 3 sto illuminando molto molto bene anche se direzionale però vi dico che dal vivo in realtà fa un po più luce anche intorno a noi nel video si vede meno proviamo il turbo ok modalità turbo e illuminiamo tutta la via fin lì dove c'è una casa se puntiamo qua nel campo vedete che adesso di là c'è luce sul furgone però di qua che è completamente buio scalda parecchio ecco posso dirvi che inizia a sentirsi che diventa un po caldina qua in zona luce ma se la teniamo impugnata sulla parte normale non fa paura il riscaldamento quindi una bella luce ma questa era la grande ora proviamo una piccolina prendiamo la media ok con la verde si vedono tra l'altro molto meglio i led allora luce 1 luce 2 1 2 3 così siamo al massimo però devo dire che comunque si comporta bene luce ne fa cioè qua siamo ragazzi completamente al buio adesso lì in lontananza ci sono delle case ma qua è buio pesto mettiamo il turbo aumenta si tra l'altro scaldameno ma una bella luce una bella luce proviamo a puntare lì un albero in lontananza vedete che lo illuminiamo senza problemi insomma devono fare luce se avete bisogno di fare luce no non c'è niente da fare ecco lì abbiamo beccato un gatto tra l'altro che ci ha visto spegniamo non lo vediamo più ma lo vediamo lì che cammina va bene direi che testa luce l'abbiamo superato possiamo tornare al furgone in una zona un po più illuminata e questa si sente scaldare molto meno perché chiaramente la potenza è minore quindi un oggetto niente niente male vogliamo provare anche la piccola ma credo non ci siano grosse differenze siamo a al massimo quindi medio massimo proviamo il turbo fa comunque un ottima luce anche lei e per carità calcolando che nasce come lampada da testa vedete che riusciamo comunque illuminare dove diversamente sarebbe completamente buio va bene siamo a fine video l'abbiamo provate come vi dicevo inizio video è stata una cosa un po goliardica perché mi piace provare questi nuovi giocattoli allora a me non serve un oggetto del genere per quello che faccio io nella vita però magari averlo nel furgone potrebbe essere molto utile e tanto ormai l'ho comprata sicuramente avrà posto nel furgone questa qui da testa fa una luce allucinante può essere sicuramente un buon prodotto ma da usare normalmente non è comoda perché fatta diciamo così a accendino con l'accensione sopra non mi sono trovato bene quella che sicuramente ho sempre in tasca nel gilet che mi è piaciuta un sacco ad esempio è questa la button 4 adesso a parte il colore che l'ho trovata solo in questo verde oro che non è fantastico però è un oggetto che fa tanta luce sono 60 euro sì per carità però è un oggettino veramente veramente interessante le batterie abbiamo visto che si sbontano si trovano non costano poco ma almeno non costano come la torcia se devo trovare un difetto a questi prodotti è sicuramente l'attacco magnetico qua per la sua basetta di ricarica perché chiaramente se non ne ho una dietro e mi si scarica non posso caricarla una porta type c avrebbe sicuramente tolto robustezza impermeabilità e tutto quello che vogliamo però magari con un tappino o magari avere la doppia opzione poi di modelli ce ne molti altri sicuramente già di queste mi sono dimenticato qualche caratteristica ma ci saranno altri modelli con caratteristiche diverse non so se in gamma c'è un prodotto che ha l'attacco magnetico più magari una porta type c sarebbe stato l'ideale almeno per me perché almeno ce l'ho sempre dietro e bene o male con le power bank in frugone eccetera avrei sempre potuto caricarla invece in questo modo io va bene che ne ho comprate tre di due o la stessa basetta quindi una me la posso portare dietro però non non ti rende indipendente di poterla caricare diciamo anche senza avere il suo accessorio originale dietro però per il resto sono oggettini molto molto interessanti delle chicche tecnologiche tutto super miniaturizzato alla fine il concetto semplice di un led che fa tanta luce però in questo piccolo oggettino c'è comunque dell'elettronica ci sono dei controlli ci sono delle robe molto interessanti sicuramente ci sono altre marche adesso questa è una delle migliori non so se la migliore non ho l'esperienza per dare un giudizio del genere però vi posso dire che sono sono degli oggetti molto molto interessanti va bene con questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta del giovedì sera se passate il negozio da torino magari una ce l'ho lì e ve la faccio vedere senza puntarvela in faccia e io vi ringrazio ciao a tutti da massidattoli grazie a tutti